Su Radio Sound Piacenza 24, ospite nel nostro pomeriggio, Loris Burgio, coordinatore provinciale di Laboratorio Verde Piacenza, benvenuto. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. C'è questa bellissima scesa in campo a sostegno della popolazione della Romagna che è stata investita da acqua e fango nelle ultime settimane, che ha creato naturalmente danni a strutture, a persone e anche agli animali, fra le altre cose. E avete messo in piedi questo bel progetto. Ce lo racconti? Sì, hai già dato tu l'essenza del progetto. In pratica, come sicuramente molte altre persone l'hanno già fatto, ci siamo attivati assieme al Laboratorio Verde di Modena per fornire alcuni generi importanti di prima necessità in aiuto a chi ha animali e magari anche non. Anche perché potete immaginare, se uno già ha il problema di dover pulire casa da acqua, fango e quant'altro, poter avere quantomeno alleviata la problematica legata al proprio animale domestico è certamente una cosa che dovesse essere fatta. Quindi siamo attivati, abbiamo dei contatti direttamente in zona a cui portare il materiale che verrà poi ridistribuito sul territorio direttamente a chi ne ha bisogno e stiamo raccogliendo materiale vario dal prodotti per animali a quelli che sono anche prodotti di prossima necessità per le persone con qualche aiuto in più per qualche telo plastico. Diamo qualche indicazione un po' più precisa riguardo alle cose che una persona può ovviamente eventualmente acquistare e portarvi o comunque farvi venire a ritirare. Noi non facciamo raccolte fondi e cerchiamo materiale che sia non deperibile, quindi direi che qualunque cosa sia confezionato in scatolame o in vasetti o in buste, quindi tipo pasta, sughi e quant'altro, può andare bene per quello che riguarda il discorso umano. Stessa cosa vale per quello che è il discorso animale, quindi crocchette, scatolette chiuse, in modo che sia facile sia il trasporto che eventualmente anche lo stoccaggio. Abbiamo qualche difficoltà in più su quelle scatolette morbide, perché capite che magari nel fare un po' veloce, nel trasportarle, stoccarle, possono essere schiacciate, rovinate, quindi andare disperse. Però poi lasciamo al buon senso e al cuore delle persone che vogliono eventualmente sostenere le persone a cui andiamo a portare questo materiale in quello che possono raccogliere. Quello che è stato raccolto poi, come vi può essere consegnato? Potete chiamare direttamente il nostro numero oppure anche fare riferimento tramite Radio San, se siete più comodi, e noi eventualmente il materiale passiamo anche a ritirarlo direttamente. Altrimenti abbiamo la sede di Ciriano, la sua strada provinciale 6, numero 29, l'Eco alla Materna Segadelli, dove eventualmente tramite una telefonata o un accordo è possibile trovarci per consegnare. C'è sempre qualcuno, ma se ne è meglio avvisare. Una gran bella occasione per mandare un aiuto concreto agli amici della Romagna è possibile con il Laboratorio Verde Piacenza. Ne abbiamo parlato con Loris Burgio, coordinatore provinciale, che è stato con noi qui su Radio Sound. Grazie Loris. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.